Domenica 6 agosto 2023, Trasfigurazione del Signore. Le visioni, il grande tema che affronteremo oggi nelle letture di questa domenica. Buon ascolto e buona visione. Una volta ogni sette anni succede che la festa della Trasfigurazione del Signore cada di domenica. La Trasfigurazione del Signore normalmente cade nei giorni settimanali. Quindi leggeremo tre letture che ci parlano di diverse visioni. Quella più importante, quella che conosciamo di più, naturalmente, è quella tratta dal Vangelo. Quest'anno leggiamo il Vangelo di Matteo, dal capitolo 17, in cui c'è questo episodio che conosciamo bene. Gesù a un certo punto prende tre discepoli e Pietro, Giacomo e Giovanni sale sul monte e lì all'improvviso capita questa visione. Gesù, che si siede a conversare con Mosè ed Elia, i due grandi profeti condottieri dell'Antico Testamento, è tutto circondato da una luce intensa, quasi una visione paradisiaca. E questi tre discepoli, che si sentono un po' decontestualizzati, rimangono affascinati da questa visione. Dopodiché chiedono a Gesù di fare tre tende e di rimanere lì. Pietro, Giacomo e Giovanni sono gli stessi tre che, in un'altra occasione, assisteranno a un miracolo, a una guarigione. Come a dire? Cosa ci insegna questo? Ci insegna che Gesù non fa i miracoli, non fa le grandi manifestazioni della sua potenza divina davanti a tutti. O quando lo fa, lo fa malvolentieri. Preferisce farlo a poche e precise persone. Come attualizzare questo nella nostra vita? Ecco, io credo che forme di trasfigurazione, cioè di comprensione profonda delle radici della realtà, della nostra realtà, del senso della vita, del senso di quello che ci accade, capitano a tutti noi nella nostra esistenza. Ci sono dei momenti forti di illuminazione in cui sentiamo la presenza del Signore. Perché ci sono questi momenti? Perché ci preparano esattamente come questi tre discepoli al momento del dolore, della morte, della sconfitta. E anche queste sono esperienze che caratterizzano la nostra vita. Allora, la visione di Dio, la comprensione, l'intuizione, comunque questa accade nella nostra esistenza, e provvidenza perché ci dà gli strumenti per affrontare quello che affronteranno i discepoli di qui a poco, cioè la morte del loro Signore. Ecco, la morte, la fatica, il dolore, quello che ci capita di doloroso è da leggere alla luce di queste intuizioni profonde. Il Signore le dà a tutti, le dà a tutti per dare questo propellente, questa benzina, per arrivare a capire il senso profondo della vita, che è quello di unirsi al Signore Gesù. Nella bella sorte, quando viviamo momenti forti, ma anche nel momento del dolore, è lì che la nostra vita si compie. Buona domenica e buona settimana.